FELIPE! FELIPE! NO! Luna! Sì? È successo qualcosa? No, no, ma ora devo andare. Credo che abbia ricordato tutto. Beh, scusate ragazzi, però quello che provo per lei è amore. E l'amore è una cosa meravigliosa che non posso controllare, lo capite? Ma noi non cambieremo idea. Decidi con calma che cosa vuoi fare. Ho già deciso. Io esco dal gruppo. Io trovo orribile che tu non sappia perdonare, Miranda. Perché se ora lo stai facendo a tua madre, un giorno questo lo farai anche a me. No, no, perché mia madre non è... Tua madre ti adora e non si merita di essere trattata così. Quindi se non cambio atteggiamento... Se non cambio atteggiamento o cosa? Dimenticate di me. Volevo dirti che io vorrei tanto che tornassimo insieme. Eh... ma io non voglio. Come? Non voglio, Valentina. Voglio stare da solo. Stai parlando sul serio? Parlo sul serio. È la tua decisione. Sì, è così. Per il momento basta ragazze. No. No, Felipe, no. No. Luna, che succede? Amore? No, no, no. Amore! No, no, Felipe, no! Ciao! 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 Luca, tutti dalla nella costà di Marenre auxangel, che con le上面 perösteremo ilERS li Seguiremo Vamos ya Si vamos ya Si algo buono va a pasar Si vamos ya La ilusione se pone en marcha Ya lo verás Nada nos podrà parar Abri tu corazón Y dejarte llevar Por todo lo que estás sintiendo Diciendo Ete es el momento per farlo non miro a tra se ha qualcosa che sta male lo possiamo cambiare facciamo realizzare i nostri sogni i nostri sogni con questo movimento juntos lo possiamo lograr si vamo, vamo, vamo si vamo, vamo che qualcosa buona va a passare si vamo, vamo veni con noi animati a sognare e con le ganas che teneremo tutti seguiremo vamo, vamo si vamo, vamo che qualcosa buona va a passare si vamo, vamo se un tempo in marcha già lo veras nada non potrà parar no, no, Felipe, no Luna, Luna, svegliati Felipe... luna, luna, svegliati svegliati luna non sono Felipe, sono Alessio che succede? ho fatto un sogno molto strano proprio stranissimo si immagino, hai sognato lui no, no, di cosa stai parlando? parlo di quello che ti sta succedendo che cosa hai luna? che succede con quel tizio? non succede niente niente, non ti credo neanche un po' ma te lo giuro, amore mio non ho niente luna, ma cosa pensi? che io non me ne sia accorto? ma ti sembra normale sognare un altro uomo? Alessio, tu sei... pensi che non mi sia accorto di niente? ci stai sbagliando io capisco che c'è qualcosa di strano ma ti giuro che non so come gestirlo c'è l'ora da fare che tu ti chiarisca le idee e poi ne riparliamo no, ti prego Alessio perché non ne parliamo ora? ora sono troppo stanco ma Tato, non puoi dire questo cosa vuoi Miranda? io non riesco a stare con una ragazza che non sa perdonare è che insomma Tato non è che non sappia perdonare ma questa è una cosa molto grave e non riesco a dimenticarla facilmente tu perdoneresti chi ti ha mentito per tutta la vita è orribile quello che hanno fatto e ancora di più sapere che a tradirti è stata tua madre mi capisci adesso? a dire la verità no io non so cosa significa avere una madre tua madre ti ama ti adora e non merita tutto quello che tu le stai facendo va bene basta basta Tato basta non riusciamo a capirci quindi è meglio che parliamo d'altro va bene come vuoi tu ma finché tu non rifletterai e non cambierai il tuo modo di fare io preferisco non parlare con te questo vuol dire che che sarà meglio che tu stia da sola e che tu rifletta tu non te ne puoi andare via così no e perché no e chi me lo impedisce? Alessandro ha ragione Martin noi non siamo liberi di fare quello che vogliamo dobbiamo restare insieme no ragazzi io non voglio far parte di questo progetto ma Felipe si arrabbierà molto ti rendi conto che è una follia noi abbiamo una missione ma basta con questa missione basta siete voi che mi state costringendo a farmi da parte però ti rendi conto? però niente sono stufo di fare sempre gli interessi degli altri e io e io quando realizzerò il mio sogno quando farò la mia vita questa non è la tua vita sì caro sì che è la mia vita e lo sai perché qui mi è successo qualcosa io mi sono innamorato di Luz e vorrei stare con lei ma purtroppo per uno stupido patto che abbiamo fatto non posso non è soltanto per il patto è l'unione che fa la forza ti rendi conto di quello che sta succedendo? l'amore manifestato in questa maniera disunisce Martin e lo stiamo verificando proprio ora no e lo sai perché? perché non è soltanto l'amore io voglio anche realizzare i miei sogni fare la mia vita mi piacerebbe giocare a calcio a calcio? tu sei matto ti stai comportando come un egoista sapete che c'è? non mi importa quello che pensate ragazzi io me ne vado non è bello quello che stai facendo le cose non funzionano in questo modo per noi mi dispiace d'accordo Ivo ho sbagliato perdonami Ivo io ti amo ti amo tanto e so che anche tu mi ami sono stata una stupida a dubitare del nostro rapporto ma mi sono lasciata influenzare mi sono lasciata influenzare dagli altri va bene Valentina basta non voglio più parlare con te aspetta Ivo parliamo invece vale non voglio non voglio non voglio parlare con te scusa ma che cos'è questo comportamento ridicolo? non puoi negare quello che senti per me niente non c'è nulla di ridicolo ma voglio fare altro chiaro? ci saranno altre cose da fare qualsiasi altra cosa lo sport la musica non lo so cose che non mi facciano pensare alle ragazze soprattutto a quelle che mi creano problemi capisci? non ti riconosco più che ci vuoi fare? io è da tanto che non ti riconosco sì, avanti permesso? posso entrare? sì, Lusilla, vieni pure sia di te sai una cosa ci sono rimasta male ieri dopo la nostra chiacchierata perché? perché non so se ho fatto bene a raccontarti di Luna e Felipe lei è la tua ragazza io non avrei dovuto io credo non ti preoccupare, Lusilla hai fatto bene hai fatto quello che ritenevi giusto d'accordo stai bene? dai, ti conosco tu non ti fidi più di me no, non è questo, Lusilla va tutto bene non ti preoccupare che ti succede? è per Luna, vero? non so con tutta questa storia di Miranda Luna è alquanto scossa insomma, è comprensibile credo che sia una cosa del tutto normale beh, sì è normale Luna è una ragazza molto sensibile se non sta male per una cosa sta male per un'altra o un'altra ancora sempre con problemi sempre un po' confusa lei... lei avrà i suoi motivi, no? ha avuto una vita molto difficile no, certo, lo so questo è sicuro certo, io non dico di no comunque chi di noi ha avuto una vita facile? quello che mi sembra strano è che essendo tu così diverso da lei così divertente, tranquillo ti sia innamorato di una persona così beh, come si dice il cuore ha ragioni che la ragione non comprende la cosa positiva in tutto questo è che è che Luna vive a casa nostra per cui stiamo sempre insieme e questo mi fa stare bene mi fa piacere sono contenta immagino deve essere bello non ti tormentare più, Luna perché non mi dice una volta per tutte che cosa mi sta succedendo io sono sicura che lei sa di cosa si tratta Luna, io non posso dirti più di quanto ti abbia già detto tu sei uguale all'amore della mia vita però non sei lei non dico che io lo sia ma sento delle cose delle sensazioni molto reali lei non sa se c'è un modo di risalire di conoscere il passato di una persona non so se ci sono delle vite precedenti o qualcos'altro è una cosa molto pericolosa, Luna non mi importa si corre il rischio di rimanere intrappolata in un'altra epoca di soffrire di disturbi mentali Felipe non mi importa io ho bisogno di sapere non devi disperarti mi preoccupa Alessio ho tanta paura di perderlo lo ami tanto? con tutto il mio cuore e quello che mi sta succedendo mi preoccupa perché non... non so cosa fare sento che c'è qualcosa che mi tradisce sento di tradire anche lui io sono sicura di amarlo con tutto il mio cuore ma in un certo senso sento anche che lo sto ingannando e questo non riesco a perdonarmelo si, 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 si sono un genio vi ho in trappola siete miei siete nelle mie mani mi intenerisce pensare che i due piccioncini staranno un po' insieme spero che se la godano perché non sarà per molto tempo faccia qualcosa non ce la faccio più Eusebio non resisto più sul serio che cosa significa questo? come osi entrare così? è che io non ce la faccio più insomma io ho bisogno che lei li separi subito che li separi immediatamente li separi immediatamente perdoni caro maestro non sono riuscita a fermare non ti permette mai in più di parlarmi in questo modo verme dalla doppia identità ha visto? ha sentito cosa le ha detto? verme! quindi su, andiamo, andiamo portala via non la voglio più vedere Eusebio, la prego dritta! si su, cammini verme verme doppia identità si, si, ho capito verme verme ha 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 Ok, grazie Grazie, basta Bravissimo, sei davvero bravo, sul serio Grazie, ho sempre giocato a calcio Beh, si vede, sei molto bravo Giocavi in qualche squadra? Ai miei tempi giocavo nella squadra dei Nuls Mi prendi in giro? No, sul serio Non so come giocano ora Ma ai miei tempi eravamo un'ottima squadra Allora sei un grande Sei un giocatore vero Grazie mille Ho sempre giocato Mi piaceva sin da quando ero bambino Sì, anche a me piace Il calcio e la musica sono le mie due grandi passioni Però mi sono dedicato alla musica Perché a calcio non sono bravo No, giochi bene No, tu giochi benissimo Grazie Perché non provi a entrare in qualche squadra? Io conosco qualcuno che ha dei buoni contatti Tu dici? Sì, il mio padrino ha lavorato nel mondo del calcio E conosce tutti Che ne dici? Ottimo, sarebbe stupendo Davvero? Sì Beh, sta sicuro che oggi stesso lo chiamo Andiamo Grazie, Ivo Oggi ho conosciuto un campione Oh ragazzi, quanto è carino Martin Scusa Olivia, che ti passa per la testa? Vuoi utilizzare i tuoi poteri o che? Martin è troppo grande per te E allora se a Benji piace Valentina Perché a me non può piacere Martin? Olivia, a Benji piaceva Valentina Ok, va bene, fa lo stesso Non importa perché non può piacere un ragazzo più grande Sentiamo In primo luogo Perché tu sei molto più piccola Secondo Perché di un'altra epoca E terzo perché 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 niente Sì, perché niente Perché La vita è così, Olivia Perché è così Ragazze, non possiamo permettere che Martin ci lasci Luce, è per te Di qualcosa No, no ragazze Non dirò niente Ne farò niente Perché Martin non se ne vada dal gruppo Cercate di capirmi Cerca di capirci tu Se va via è colpa tua Perché è innamorato di te Tu sei l'unica che può fare qualcosa Caterina, io non ho chiesto a Martin di innamorarsi di me Ah, però c'è innamorato Per favore, ragazze Non discutiamo, per favore Sì, hai ragione Dobbiamo riuscire a trovare un modo per Ecco, parlerò con lo zio Felipe Eh, Luce Ciao, come stai? Bene Ti posso fare una domanda? Sì, certo Tu sai se è possibile risalire e conoscere il passato di una persona? Quando dici passato a cosa ti riferisci? Sei passato vicino oppure lontano? Eh, supponendo che uno creda nella reincarnazione, no? Si può sapere qualcosa riguardo la vita precedente? Mmm, non so, non sono sicura che si possa Tu vuoi indagare sulla tua vita? Come... Sì Sì, sì che si può E tu come lo sai? Perché una mia zia si dedica a questo Eh, per favore Valentina, mi puoi spiegare bene perché mi interessa? Non ne so molto, l'unica cosa che so è che C'è un procedimento un po' strano E che non ti consiglio perché non è un ambiente pulito C'è molta gente fasulla che dice che sa farlo Va bene, ma a me non importa questo Tu hai mai visto come tua zia fa questo procedimento? No, ne ho soltanto sentito parlare Quello che sicuramente sa qualcosa sull'argomento è Eusebio Eusebio? Sì Sì, per quello che so è un essere diciamo alquanto particolare E ha molti più poteri di quanto noi possiamo immaginare Quanto sono belli Sì, sono incantevoli Voi dite che verranno molti ragazzi siccome l'inizio Tu offri, cotolette alla milanese, patatine fritte, gelato come dessert Vedrai come vengono tutti Miranda? Hello? Hai qualche idea da proporre sul menù di inaugurazione della mensa? No, non so, non ho idea Hai due problemi con Toto? Ho sempre problemi con Toto, sempre Questa volta io non c'entro niente Sì, lo so Dice che è arrabbiato per come tratto...